Siamo qui con i riders che oggi stanno manifestando in questa giornata particolare, ci potete spiegare un po' intanto che giornata è oggi? Oggi è la giornata di mobilizzazione internazionale dei riders, quindi non soltanto tutti i rider d'Italia, comunque tutti i collettivi d'Italia si mobilitano, ma a livello internazionale, quindi anche in gran parte d'Europa. Perché? Perché ovviamente tutti alla fine vogliamo la stessa cosa, cioè portare all'attenzione del pubblico quelle che sono le nostre difficoltà del nostro lavoro. Il lavoro comunque ha dei vantaggi per quanto riguarda la flessibilità, quindi possiamo in teoria lavorare quando vogliamo e quanto vogliamo, però ci mancano i diritti di base, quindi per esempio un'assicurazione, un'assistenza sanitaria, ferie e malattie. E questo è un lavoro difficoltoso, perché è un lavoro che porta a stare sempre fuori, qualsiasi siano le condizioni meteorologiche, bello stare fuori, però effettivamente quando c'è pioggia, c'è neve, noi dobbiamo lavorare. E se ci facciamo male questo potrebbe essere un problema, perché noi non abbiamo garanzia di poter lavorare in seguito, o comunque di essere risarciti per qualsiasi danno che può avvenire. Se vogliamo un'assicurazione dobbiamo pagarcela noi, per esempio. E questo è un problema che accomuna tutti noi, tutti noi che comunque lavoriamo per diverse aziende, che sono per esempio Deliveroo, Foodora, anzi Ex-Foodora, Glovo, Just Eat, o anche Uber Eats in altre realtà. In Italia oggi è una giornata importante, perché recentemente c'è stata la cessione dell'attività di Foodora in Italia e è stata acquisita da Glovo. Il problema è che i fattorini non sono stati integrati nella nuova azienda Glovo, ma sono stati licenziati in blocco. Circa 2000 fattori in tutta Italia, 200 solo a Firenze. E questa è una cosa che riteniamo inammissibili. La legge è un sistema legale di sfruttamento e questo pare un'assurdità nel 2018. E quindi noi come RUF, come tutte le altre realtà di ciclofattorini e di collettivi, ci proponiamo di combattere proprio questo. Come vi siete organizzati qui a Firenze? In poche parole noi abbiamo iniziato questo progetto, che è il RUF, la radio azione in Firenze, per farvi mettere un attimino nei nostri panni. Noi si lavora con un cellulare, si connette anche o in degli cosiddetti starting point, ma anche a volte da casa, dipende da quello da lavorare le piattaforme. E poi stiamo al giro tutto il giorno da soli sulle nostre biciclette. Quindi non siamo coesi, è un gruppo disgregato. E grazie, come anche la storia insegna, quando un gruppo di lavoratori è disgregato non può ottenere grandi rivendicazioni. Quindi RUF si propone proprio questo, cioè come obiettivo principale, cioè creare maggiore coesione e aggregazione tra i fattorini, creare unione tra i fattorini, perché come sappiamo l'unione fa la forza e grazie a questo magari possiamo ottenere maggiori rivendicazioni. Quello che un po' ve l'ha spiegata un pochino anche Giulia, il problema fondamentale di questo lavoro è l'assenza di tutele. Quindi noi quello che vogliamo nel concreto sono malattia, ferie e un'assicurazione dignitosa. Perché le assicurazioni che abbiamo sono veramente ridicole. Se muori e ti danno 50 mila euro, cioè non a te, a te, alla famiglia danno 50 mila euro. Capito? Questa è l'assicurazione di delivero. Se perdi una gamba 20 mila euro, ma 20 mila euro non sono niente per una gamba persa, perché se ti perdi una gamba sei rovinato per il resto della vita. Con 20 mila euro ci puoi andare avanti due anni, e poi tutti gli altri anni cosa fai? Facciamo il nostro sporco lavoro come un medico, un avvocato, qualsiasi persona nel mondo. L'Italia è un paese basato sul lavoro. Noi vogliamo essere liberi, liberi di poter lavorare onestamente. non buoni soli al giorno, ma come tutti, il massimo di otto, avere i nostri diritti è una cosa che dovremmo avere assodata nel 2018. E quali sono i prossimi appuntamenti? Allora, per esempio, stasera abbiamo organizzato una festa, qui nello spazio La Polveriera in Via Santa Reparata, ci sarà da mangiare, da bere, musica dal vivo, ed è soprattutto anche una festa di autofinanziamento per il nostro collettivo e soprattutto la ciclofficina che verrà inaugurata qua e che, visto che la bici è il nostro mezzo principale e sta a noi la manutenzione di questo mezzo, comunque creare un'assistenza gratuita gestita da noi e questo è anche un modo appunto di avvicinare anche altri fattorini alla nostra in realtà e cercare di ingrandire sempre di più il gruppo. Viva il gruppo Viva il gruppo Viva il gruppo Viva il gruppo